Mauro Febbo si parla di scuole in questo periodo per la vicenda dell'alberghiero ma non solo, di poli scolastici, il centrodestra è critico sulle azioni che sta portando avanti la regione Abruzzo, perché? Ma perché si va avanti a spot senza programmazione e senza un minimo di programmazioni territoriali, quindi corrispondenza delle esigenze dei territori. C'è un decreto del Ministero che fissava entro il 15 ottobre un concorso di idee da presentare al Ministero, all'Abruzzo vengono assegnati circa 10 milioni di euro. Non l'assessore ma il Presidente che si sostituisce interamente all'assessore presenta una delibera in giunta di oltre 23 milioni di euro, quindi qualcuno rimarrà estromesso. Non viene fatta l'evidenza pubblica, oggi leggiamo che ci sono dei ripensamenti su tutti i fronti, perché a Pescara non va bene il trasferimento dell'alberghiero. In provincia di Chieti salta la scuola perché già c'era una vecchia programmazione, mi sembra che nella Marsica ci sono altri problemi, quindi si va avanti in questa maniera. Peraltro rischiamo veramente di perdere i 10 milioni di finanziamento. Quindi il centrodestra cosa propone? Quando ci fu la prima grande pioggia di questa infernata, 87 comuni vennero presi in giro con l'assegnazione di fondi, fondi che oggi non ci sono. Abbiamo già denunciato questo, oggi portiamo una lettera proprio degli uffici dove dice, conferma ciò che abbiamo detto, che al 20 ottobre i fondi non ci sono, quindi invita i comuni a non fare delle gare di appalto. La problematica è che qui si continua a prendere delle delibere senza la copertura finanziaria, cioè non si passa tramite l'ufficio bilancio, cioè si fa solamente propaganda. Si fanno spot elettorali, si fanno quelle che io chiamo delibazioni, cioè pezzi di carta che servono solamente per finire sui giornali e per scrivere quattro righe.